Cari amici, siamo entusiasti della vostra compagnia in questa giornata carica di sorprese. Oggi, ci addentreremo insieme nelle ultime evoluzioni di una trama coinvolgente, che tiene ognuno di noi con il fiato sospeso. Nel nostro video odierno, immergiamoci nella trama avvincente di La Promessa, rivelando segreti, sospetti e colpi di scena che terranno incollati gli spettatori dal primo all'ultimo minuto. Iscrivetevi al canale, cliccando la campanellina per non perdere mai più. Nessuna anticipazione. Dopo l'apertura del testamento e la sorprendente scoperta che il duca ha destinato un terzo del suo patrimonio a una certa Elisa Alonso, Romulo è convocato da Alonso per chiarire la situazione. Alonso, desideroso di conoscere ulteriori dettagli, interroga Romulo, chiedendogli se durante tutti gli anni trascorsi al servizio della famiglia ha mai sentito parlare di questa misteriosa signora, magari a Cuba. Prima di svelarvi i dettagli succulenti, preparatevi a un'esperienza, che vi terrà incollati allo schermo. Un segreto rivelato solo nei minuti finali del video, lascerà il vostro cuore in fibrillazione, rendendo questo viaggio ancora più avvincente. Ciò che scoprirete a breve vi lascerà senza fiato, e garantiamo che non vedrete l'ora di condividere le vostre opinioni nei commenti, soprattutto su quel particolare che scopriremo insieme verso la conclusione del nostro entusiasmante percorso. Romulo, tuttavia, afferma di non ricordare nulla di rilevante e promette ad Alonso di indagare presso il personale di servizio, sperando che possano fornire informazioni su questa enigmatica Elisa. Jimena e Manuel, nel frattempo, si trovano a letto insieme Manuel, profondamente assorto nei suoi pensieri. Riceve le scuse da parte di Jimena per il suo comportamento precedente e la sua risposta brusca. Jimena, pur sottolineando il suo nervosismo dovuto al fatto che il loro viaggio di nozze non è ancora iniziato nonostante fosse tutto pronto, cerca di capire la confusione di Manuel causata dall'incidente. Manuel, a sua volta, si scusa per la sua bruschezza e spiega la sua confusione attuale. I due si baciano e Manuel, improvvisamente, ricorda intensamente il bacio dato a Ana poco prima, suscitando però una strana reazione in lui. Jimena, notando il suo comportamento insolito, cerca di confortarlo. Catalina, desiderosa di chiarire la situazione tra lei e Simona, si reca in cucina per parlare con Candela. Chiede a Candela di sedersi con lei per prendere il tè, preoccupata per la tensione tra lei e Simona, offre il suo aiuto. Candela, tuttavia, rifiuta di discutere dell'argomento, spiegando che Simona le ha mentito per anni e che questa tradizione è imperdonabile, considerando Simona la sua migliore amica. Lope raggiunge Catalina ma Catalina afferma di non essere a conoscenza del litigio tra lei e Simona. Catalina, desiderosa di offrire il suo sostegno, chiede a Lope in che modo possa aiutare. Lope, riflettendo sulla situazione, suggerisce che forse la scelta migliore è attendere che l'arrabbiatura si placchi, poiché al momento non c'è nulla che possano fare. Catalina concorda con saggezza e si congeda, lasciando spazio alla calma. Nel frattempo, Maria si dedica al lavoro, stendendo i tappeti, mentre Teresa, in un momento di allegria, canta. Un dolce ricordo le pervade la mente, quando Salvador l'aveva aiutata con un tappeto. Con un sorriso, Maria si unisce a lei, creando un'atmosfera di connessione. La conversazione di Lope con Catalina si dissolve nei dettagli di una vita quotidiana avvolta da piccole gioie e fatiche. Nel frattempo, emerge il desiderio di un futuro luminoso mentre Maria immagina un viaggio al mare con il suo fidanzato. Una speranza che armonizza il ritmo della sua routine. Nel salotto, l'abbraccio caloroso di Martina a Manuel trasuda affetto e gioia. Le sue parole riflettono una preoccupazione passata e un sollievo presente, svelando una connessione profonda. Jimena, in un vorticare di emozioni, esplora le sale del servizio, intraprendendo un cammino di introspezione. Simona, fedele e confidente, le rivolge domande e offre il proprio aiuto. L'atmosfera si impregna di un mistero delicato, mentre le due donne si confrontano su richieste e tisane, intrecciando il quotidiano con le aspettative. Prima di continuare questo avvincente viaggio, nel mondo delle anticipazioni, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, per non perdere neanche un aggiornamento. Premete quel pulsante iscriviti e preparatevi, a essere sempre un passo avanti alle novità. Nel contesto di una partita ad Ama, Martina e Manuel condividono un momento intimo. La curiosità di Manuel da vita ha un dialogo sulla memoria e sul passato. Un dialogo che svela la delicatezza del recupero e la tensione tra verità e segreti custoditi. Un velo di malinconia avvolge la storia di Manuel, mentre Martina, con onestà, svela un capitolo intricato del suo passato. La scena si svolge in un crescendo di emozioni, alimentate dalle domande di Manuel e dalle risposte di Martina, che ritraggono un affetto in divenire. Jimena, proiettando un desiderio romantico, apre le porte a una cena intima con Manuel nella loro stanza. La luce soffusa, i dettagli dei piatti preferiti di Manuel e le richieste speciali di Jimena tessono un quadro di intimità. Simona, offrendo la sua collaborazione, si impegna a realizzare il desiderio di Jimena, aggiungendo un tocco personale alla preparazione della cena. Nel mentre, Candela, in un angolo appartato, confida a Teresa il rimorso che la attanaglia per aver accettato il servizio in quella casa. Un senso di rimpianto si fa strada nelle sue parole, delineando un passato che si fa sempre più difficile da sopportare. Candela, in un momento di confidenza, rivela il suo pentimento, raccontando di tempi passati in cui la sua situazione era migliore. Veniva retribuita in modo più sostanzioso e godeva di maggiore tempo libero. La sua decisione di rimanere vicino a Mauro, tuttavia, si è rivelata fonte di rimorso. Teresa suggerisce di perdonare Simona, ma Candela, con una fermezza proveniente da un passato irrimediabile, afferma che ci sono questioni che non possono essere ignorate. Nel mentre, Maria si apre con Mauro, confessando una profonda nostalgia per Ana e l'ansia crescente per la mancanza di comunicazione durante la visita dei genitori di Gimena. Nel contempo, Petra ascolta di nascosto, e Mauro specula sulla possibile scrittura di Ana, anche se il destino della lettera è incerto. Mauro, con assicurazioni calorose, cerca di lenire le preoccupazioni di Maria. Petra, nel corso della conversazione, rivelando che Cruz non approva il lavoro di Ana, e si confessa udendo i discorsi che sembrano. Estranei, quasi come se fossero mercanti al mercato. In una conversazione privata, Alonso informa a Catalina dell'arrivo della dote di Gimena, ma sottolinea che la situazione economica è critica. Catalina ribadisce l'importanza di vendere beni superflui, come il Palazzo di Madrid, per sostenere la promessa. Tuttavia, la rivelazione di Alonso che i soldi del barone sono andati altrove getta un silenzio tombale sul tavolo durante la cena del servizio. L'espressione di sconcerto si dipinge sui volti dei presenti, mentre il consigliere Gregorio, perplesso, chiede spiegazioni sulla presenza di Catalina e Gimena in cucina, sottolineando quanto ciò sia insolito. Simona risponde, spiegando che Gimena era lì per fare una richiesta speciale per la cena. La tensione palpabile cresce quando si scopre che Simona e Candela hanno interrotto la comunicazione, generando curiosità e domande tra gli altri presenti, tra cui Petra, che cerca spiegazioni sulla improvvisa rottura di una lunga amicizia. Pia, irritata, risponde aspramente a Petra di occuparsi dei propri affari, ma Romulo interviene tempestivamente, cercando di placare la tensione. Tuttavia, Petra persiste, enfatizzando misteriosi segreti di Pia e profetizzando che, prima o poi, un figlio senza padre vedrà la luce. Un silenzio gelido si abbatte su tutti i presenti. Pia, senza una parola, si alza e se ne va, ma Cruz, la Marchesa, interviene, domandando se ci sia qualcosa che Pia non le ha detto. L'attenzione di tutto il personale di servizio è catturata dal dramma che si svolge. La Marchesa chiede a Cruz quando nascerà il figlio, suscitando l'attenzione generale. Cruz, con autorità, si alza, dirigendosi a Pia, domandandole se sia vero che è ancora incinta. La tensione aumenta mentre Cruz minaccia conseguenze gravi per la sua condotta. Pia, impotente, non riesce a rispondere. Cruz insiste, esortandola a dire la verità o a affrontare le conseguenze pubbliche. Alla fine, Pia si scusa, confermando la verità. Cruz la rimprovera aspramente, accusandola di aver mentito non solo a lei, ma anche al Marchese. La Marchesa la umilia pubblicamente, rinfacciandole la sua condotta scorretta. Candela, cercando di smorzare la situazione, interviene con una scusa apparentemente casuale. Cruz, però, si avvicina a Pia, sottolineando che le sue azioni avranno conseguenze serie. Inaspettatamente, Gregorio cerca di prendere la parola, ma Cruz lo attacca verbalmente. Tuttavia, Gregorio persevera, ammettendo parte della colpa e rivelando di essere il padre del figlio di Pia. La dichiarazione provoca un'atmosfera carica di sorpresa e sconcerto. Nel frattempo, Manuel, assorto nei suoi pensieri, osserva il cielo attraverso la finestra, riflettendo sul divieto di Curro di parlare del suo passato. Manuel, lentamente, inizia a ricostruire i frammenti del puzzle. Il cugino Curro si avvicina, e Manuel, con una nota di speranza, condivide la sua gioia per l'ulteriore miglioramento nel rapporto con il capitano, ricordando la preziosa conversazione avuta durante la sua convalescenza. Curro, mantenendo la coerenza con quanto già detto, ribadisce a Manuel che prima dell'incidente non sembrava così innamorato di Mena. Manuel, con sincerità, confida a Curro che questa percezione è di grande importanza per lui. Curro suggerisce che potrebbe essersi fatto un'idea sbagliata, ma Manuel risponde con fermezza, sottolineando che entrambi sanno che non è così. Alonso e Cruz affrontano Pia e Gregorio, richiedendo spiegazioni da entrambi. Gregorio si spiega, rivelando che lui e Pia si erano già incontrati in passato nella stessa casa e si conoscevano da tempo. Alonso, impaziente, gli chiede di evitare dettagli inutili, ma Gregorio, in un tentativo di difesa, inventa una storia elaborata. Racconta che Pia gli aveva scritto annunciandogli la gravidanza, e da quel momento ha fatto di tutto per rivederla, arrivando persino a lavorare alla promessa. Pia, in un momento di imbarazzo, si scusa, ammettendo la situazione indecorosa data la mancanza di matrimonio. Alonso li congeda, annunciando che verranno informati sulle decisioni dei marchesi. Cruz è senza parole, e Alonso trova difficile accettare che Gregorio, sempre ritenuto di grande rigore, si sia lasciato coinvolgere in questa situazione. Se desiderate rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e curiosità, sulle vostre produzioni preferite, non esitate a iscrivervi al nostro canale. Basta un clic sul pulsante iscriviti e sarete parte della nostra community esclusiva. Inoltre, non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto.